Il polacco Kuzniewicz Il polacco Kuzniewicz Il polacco Kuzniewicz Il polacco che andrà a vincere la prova La sua ultima strambata Eccolo che è più interessante Quello che succede alle sue spalle Con Robert Scheid Che si avvia a vincere il mondiale Eccolo Ecco Scheid che si trova intorno alla quinta posizione Intanto il polacco è andato a tagliare anche il traguardo Eccolo qua Sul traguardo in questo momento Dunque medal race della classe star Forse avete sentito anche il colpo di cannone Questi sono gli spettatori Che stanno seguendo dagli scogli la regata Torniamo a stringere sul Gruppo adesso la strambata I due equipaggi tedeschi Dietro di lui Scheid Che sarà campione del mondo Tra pochi istanti Ultimi metri In fila indiana Verso il traguardo Seconda in norvegese Terzo tedesco Quarto un altro tedesco Quinto Robert Scheid adesso Eccolo qua Robert Scheid Campione del mondo Brasile campione del mondo nella classe star